buonasera buonasera a tutti bentornati sul canale atleta tv siamo live sul nostro canale twitch per l'appuntamento del mercoledì ormai fisso e consueto con fuzza all'arena accanto a me già vedete marco nicola in una postazione diversa dal solito diverso dal solito perché già c'è un solito alla terza partita già c'è un solo per quanto mi ricordo già c'è un solito la postazione ovviamente non è a caso perché abbiamo dovuto fare spazio nei nostri studi per accogliere il nostro ospite di oggi che è francesco semelaro eccoci qua ciao francesco mister allenatore coach come la definizione mister mister a calcio al mister giustamente anche a calcio 5 e dell'under 19 dell'olimpus roma del 19 nazionale si intanto benvenuto grazie negli studi di atleta news come subito a caldo com'è la prima settimana di campionato di quelli grandi beh ieri ieri ha giocato la seconda partita di campionato la nostra serie a l'olimpus sono uscite una bella vittoria su l 84 prestazione molto molto positiva però oggi parliamo di futsal giovanile quindi parliamo non delle delle squadre maggiori di serie a ma dei corrispettivi giovanili in questo caso abbiamo abbiamo l'under 19 che ci ci spiegava francesco ma questo è un tema che dobbiamo approfondire in puntata le under 19 sono le diventate le giovanili maggiori sì è l'ultima è l'ultima categoria per quanto riguarda il settore giovanile delle società di calcio a 5 perché fino fino allo scorso anno ci dovevano ci doveva essere un under 21 e poi tutte le situazioni insomma che si è creata del virus e quant'altro e quest'anno l'ultima categoria del giovanile l'under 19 allora io come al solito francesco questo è un po il canovaccio di futsal arena io sono un un appassionato neofita di futsal mi sono avvicinato di recente la spalla su cui mi leggo è marco che sicuramente il più il più esperto almeno all'interno della nostra redazione e quindi in realtà la prima domanda la giro a marco queste prime due giornate di serie a per il futsal il futsal italiano come le hai come le viste molto bene ho seguito tutte le partite che mi era possibile eseguire devo dire livello ovviamente altissima su questo non avevamo non avevamo nessun dubbio ero molto curioso di vedere sky il palazzetto e tutto quello che comportava e devo dire qualità molto 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 buona hanno fatto un prodotto molto efficace comunque con anche interviste eccetera comunque uno poteva pensare che veniva un po un po trattato come uno sport minore invece è stato che sono fatto un programma tutto quello che c'è anche dietro la partita comunque molto molto bello c'è il terzo tempo ho visto quindi comunque comunque molto molto interessante e risultati risultati già qualche risultato un po un po inaspettato c'è stato però alla fine il nostro big match che tanto aspettavamo pesaro napoli alla fine è andato nel verso nel verso che che ci aspettavamo e però devo dire molto 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 bene questo queste prime due giornate che poi adesso finisce oggi la seconda e questo weekend c'è subito la terza quindi c'è subito un susseguirsi di partite in interrotto diciamo infatti subito il mister del pesaro si è subito lamentato ha detto aspettiamo qualche allenamento con tutti i giocatori perché adesso ancora non si può fare nulla infatti effettivamente così è che stanno giocando anche loro anche loro ogni tre giorni quindi risposte positive deve essere un hashtag che gira quello del dei giocatori allenatori sia le lamentano se lamentano del troppo impegno che insomma non c'è dubbio che è così negli ultimi due anni tra calcio calcio a 5 un po tutti gli sport stanno veramente dando dando il massimo essendo stati fermi per molto tempo devono recuperare veramente stanno giocando penso anche a cultua nel calcio a 11 che si è lamentato la UEFA la partita con l'italia è solo è solo ma scopo di lucro diciamo per far guadagnare la UEFA il ragionamento obiettivamente obiettivamente fila perché non fare una finale terza e quarto posto così in una competizione che non aveva tutto quel quel valore effettivamente ha lasciato un po lasciare un po si tempo il tempo che trovava arrivando chissà se gli stessi problemi sono anche a carico delle delle giovanili del calcio a 11 o del futsal in questo caso beh noi al calendario al calendario iniziamo domenica la prima di campionato e dovevamo essere un girone un girone a 13 squadre poi c'è stato il ritiro dell'active network di Viterbo che purtroppo purtroppo succede anche questo insomma che le società non riescono poi organizzare essendo un'obbligatorietà quella di avere un under 19 nazionali per le squadre che partecipano le prime squadre che partecipano al nazionale e quindi ci ritroviamo in un girone a 12 squadre e c'è una ci sono anche noi abbiamo turni in fila settimanali però a dicembre fino a dicembre si giocherà una volta ogni ogni fine settimana ogni domenica anche perché diciamo che i ragazzi forse più dei dei maggiori possiamo chiamarli così hanno a maggior ragione bisogno di allenarsi trovarsi in gruppo immagino anche perché vengono invece da un'annata sì no ma infatti quello che stavamo parlando pure prima insomma noi siamo stati uno dei pochi fortunati perché rientrando in competizione nazionale e abbiamo la possibilità anche lo scorso anno di poter allenarci e poi alla fine a marzo inoltrato siamo siamo riusciti pure a partecipare al campionato al campionato nazionale ristretto perché comunque la partecipazione delle squadre abbastanza ristretta però però siamo stato noi siamo stati molto fortunati rispetto a tutte le categorie minori come under 17 under 15 per non parlare poi delle scuole calcio che chi tra allenamenti individuali di tra obbligo di fermo non ha non ha potuto fare niente insomma quindi noi noi fortunatissimi la situazione che purtroppo ha colpito tutti tanti insomma ma questo questo lo sappiamo ma siamo arrivati forse a quel a quel momento di ripartenza anche nello sport che ci sia per fortuna se ci siamo da una trasito e nelle puntate precedenti come come si dice che nel frattempo invito se non avete avuto modo di vedere di andarle a recuperare o qui su twitch o su youtube sui nostri canali social instagram facebook di cui trovate tutti i link e non vi scordate di lasciare il follo sul canale twitch per non perdere le nostre dirette ma dicevo nelle puntate precedenti abbiamo spesso parlato proprio della questione sky anche in relazione ai settori giovanili cioè ce lo diceva mister bell'arte città nazionale ce l'hanno detto anche altri vari protagonisti cioè un po la mancanza per il futsal di una vetrina importante che serva non solo a far cassa parliamoci anche chiaramente però anche ad attrarre ad attirare l'attenzione dei giovani verso i giocatori di futsal cioè quel concetto che appunto ci portava dell'arte la creazione dell'idolo del mito che il ragazzo poi può seguire ecco quindi a un allenatore di una giovanile ribaltiamo ribaltiamo la domanda quanto c'è bisogno di idoli per attrarre i giovani oppure semplicemente essere l'obiettivo per un giovane calciatore di futsal e quanto questa visibilità può portare linfa nuova linfa vitale alle squadre giovanili guarda diciamo che comunque rispetto agli anni passati il calcio a 5 ha avuto un seguito di ragazzi anche per quanto riguarda scuole calcio a quindi a crescere da scuola calcio fino ai settori maggiori delle giovanili è andato è andato sempre più crescendo l'attenzione su questo sport ovvio che quest'anno con la grandissima vetrina di sky e c'è questa questa opportunità enorme di espandere ancora di più questo far conoscere ancora di più questo sport a tutti è normale che noi che siamo dentro questo sport io vengo io vengo comunque da da tantissimi anni cioè dalle davvero da una volta c'era la juniores adesso adesso non esiste più il standard 15 under 17 under 19 e quindi questo sport lo seguo da quando ero da quando ero bambino giocato prima e adesso come come allenatore e c'è tantissimo bisogno di di espandere questa conoscenza su questo sport tantissima pubblicità e sky e sky è senza dubbio una un enorme pubblicità del calcio a 5 quando eri ragazzo tu però tanto tempo fa quali erano i riferimenti che potevi avere giocando a calcio a 5 o anche gli stimoli che ti hanno portato a giocare a futsal a preferire futsal a calcio a 11 guarda ed è quando ero quando ero ragazzo io quindi stiamo parlando davvero di un bel po di anni fa e sono entrato in questo sport per caso tramite conoscenze tramite amici che giocavano e che poi una volta a roma c'erano pochissime società c'era la roma 3z c'era la roma e entrai a far parte del settore giovanile della roma 3z con con zaccardi che ancora che ancora sono uno uno dei pochi che che sono riusciti a continuare a portare avanti questo grandissimo progetto e e da lì poi mi sono fatto tutte tutte le categorie da giovanile fino alle squadrette un po più un po più alte insomma e però la conoscenza del calcio a 5 all'epoca era davvero a livello parrocchiale e poi poi però siamo riusciti siamo riusciti un po ad espandersi con i primi i primi campi al coperto questo futsal no che che sarebbe il calcio a 5 giocato però esatto e le società si sono iniziate a attrezzare per per anche chiamando magari giocatori dall'estero no quindi partecipazione maggiore per far crescere il livello del futsal italiano e devo dire che oggi sicuramente rispetto a quello che è stata la partenza stanno stanno stiamo davvero un grande passo avanti anche se c'è c'è ancora tanto da migliorare ora se vuoi ti rispondo io sicuramente uno degli idoli era sicuramente andrea rubèi ma ancora gioca andrea rubèi esatto è il miglior marcatore della storia della nazionale italiana penso il primo fenomeno del calcio a 5 italiano e ancora gioca ancora gioca in una delle storiche società che era il torrino fino fino a un paio di anni fa mi sembra che giocava l'anno scorso l'anno scorso anche l'anno mi stanno pure gioca ma non ricordo se non ho in c1 faola b o la c1 però non lo so avremo sicuramente presto ai nostri microfoni quindi lui è davvero uno di un simbolo del calcio a 5 italiano è la memoria storica del nostro del nostro calcio a 5 quindi sicuramente chi meglio di lui per raccontarci l'evoluzione no anche di questo sport che appunto è arrivato e dove dove siamo oggi dove è arrivato oggi e chissà poi dove potrà arrivare perché chissà dove porterà dove ci porterà la nazionale che a gennaio dovrà affrontare gli europei quindi anche anche ancora una volta di rigiro un'altra domanda che avevamo posto al ct bell'arte cioè l'importanza dei dei giovani di un ricambio della anche per quanto riguarda la nazionale italiana e cosa possono fare cosa fanno le società di futsal per sfornare insomma i nostri nuovi i nostri nuovi talenti i nostri nuovi campioni guarda le le società le società che che si possono permettere anche un settore giovanile di livello non sono tantissime purtroppo perché magari le spese cioè soprattutto le le grandi le grandi squadre a livello a livello di di budget annuale per per mettere su una una squadra di livello la spesa è davvero è davvero enorme e magari magari si tende si tende a a non salvaguardare a dovere il settore giovanile come come si dovrebbe fare no e ci sono invece altre altre società che puntano puntano davvero tanto sul settore giovanile per riuscire a portare avanti il progetto di crescita del ragazzo fino alle squadre alle squadre maggiori e alle prime squadre vedi la stessa lazio o l'history romatre z è la stessa cosa che comunque hanno 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 ragazzi che sono cresciuti davvero nella loro scuola calcio e ora si ritrovano in serie b o in serie a due dove dove giocano quindi però purtroppo purtroppo ce ne sono davvero poche di realtà del genere e si spera si spera che si possa si possa raggiungere tutti lo stesso livello e puntare davvero sul sul bambino e quindi scuola calcio per farlo crescere fare fare tutti tutto il percorso di crescita nella nella società di appartenenza fino a sarebbe sarebbe il sogno di qualsiasi allenatore di scuola calcio io poi ho lavorato dalle scuole calcio fino a questo è il secondo anno insomma che mi ritrovo in under 19 nazionale e quindi posso assicurare che veder crescere i bambini e vederli poi giocare in categorie superiori anche se non con te però con altre società è gratificante sì tanto tantissimo all'olimpus sicuramente una delle società che più punta poi si infatti volevo volevo chiedere che ho letto delle dichiarazioni del presidente che diceva non vogliamo fare la comparsa vogliamo essere un punto di riferimento e ci ho letto anche dei riferimenti al proprio al settore giovanile la vostra società come si sta muovendo per guardato in questo campo dice per quanto per quanto riguarda la prima squadra devo dire che hanno allestito una rosa di altissimo livello hanno tutti hanno preso tutti i giocatori provenienti già da dalla serie a perché noi venendo dalla 2 l'altro anno vinto il campionato però l'ossatura l'ossatura è rimasta anche anche la nostra la nostra prima squadra che sono ragazzi cresciuti nell'olimpus come De Eugenio e che ora si trova si trova a giocare in serie a e anche in nazionale quindi ci sono ci sono ragazzi che ancora fanno parte della rosa della prima squadra e che sono cresciuti nell'olimpus e la speranza ve lo ripeto è sempre quella comunque di poter perché poi non è non è facile purtroppo far approcciare i ragazzi giovani a questo sport perché il loro punto di riferimento è come sport di massima il calcio non il calcio a 11 e il calcio a 5 una volta veniva veniva visto quasi come un ripiego no gli scarti del calcio del calcio a 11 venivano a giocare così si diceva al calcio a 5 ma sono solo due sport completamente quando non ti andava più di allenarsi allora ti andava più di allenarsi è una volta che si diceva così purtroppo ma adesso il livello è davvero cresciuto tantissimo poi la qualità tecnica deve essere molto più elevata rispetto a quello del calciatore di del giocatore del calcio a 11 perché gli spazi sono ristretti perché anche io anche io gioco da 5 e quindi io ho raccontato differenze sono sono due sport differenti io gli ho fatto un raccontato un aneddoto col mio col mio mister che io ovviamente arrivato anch'io dal calcio a 11 abituato a giocare che a 11 dicono gioca la palla di prima gioca la palla di prima gioca la palla di c'è controllo di scuola certo ma come il primo controllo è fondamentale perché dice devi dare il tempo al compagno il tempo di giocata deve essere un po più bene quindi sicuramente anche la crescita di giovane calciatore come potrebbe essere essere marco all'epoca è importante perché un conto è crescere nel calcio a 11 poi sappiamo che nelle scuole calcio i bambini approcciano prima nel campo ristretto diciamo che fanno un calcio più che altro per limiti di grandezza dell'individuo diciamo esatto esatto quindi viene percepito come un propedeutico al calcio a 11 però poi certo per i primi passi si fanno dentro dentro a campo di calcio a 5 per i più piccoli sì però poi certo che quando arrivi in serie a la musica deve insomma in qualsiasi altro campionato la musica deve cambiare un po e quindi ci ci chiedevamo anche tu hai fatto ci dicevi calcio a 11 e calcio a 5 sì io ho iniziato nel calcio a 11 poi ho avuto approccio al calcio a 5 da 17 anni 16 anni erano 16 anni mi sembra e da lì ho continuato nel calcio a 45 quindi insomma è importante ma da allenatore allora come come se è diverso l'approccio verso proprio i bambini verso i ragazzi che arrivano al calcio a 11 proprio tecnicamente per insegnargli i fondamentali sostanzialmente ma guarda per quanto riguarda le scuole calcio c'è l'approccio più o meno uguale perché parliamo sempre anche nelle scuole calcio a 11 i bambini iniziano a giocare nel campo nel campo piccolo e è difficile è difficile anche 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 riuscire a a portare avanti un progetto con i più piccoli perché poi i bambini arrivati ad una certa età anche se parti nella scuola calcio a 5 arrivato a 12 13 12 nel campo 8 e giocare nel campo quindi quindi riuscire riuscire a trattenere i ragazzi in questo sport è molto difficile ma l'unica cosa che che si può che si può far vedere a loro insomma è la passione la passione che gli istruttori gli allenatori mister devono metterci nell'insegnare a loro i fondamentali che poi sono del calcio a 5 però il lavoro che si svolge che si svolge con il più piccoli è quello che magari ti dà più gratificazione perché vedere vedere il bambino crescere come come dicevo prima insomma vedere sul campo risultati degli insegnamenti o del lavoro fatto dei piccoli lavori fatti tutti insieme sul campo è bellissima ti dà davvero tanta tanta gioia ma immagino che sia molto molto gratificante io a proposito di quello di quello che ha detto prima del calcio a 5 calcio a 11 la scelta io ho letto sempre delle dichiarazioni del vostro responsabile del settore giovanile che diceva che voi avete entrambi le scuole calcio e poi e poi il ragazzo è il ragazzo che va a scegliere sì ma i ragazzi che che allena lei che alleni tu sono già c'è questa scelta è stata già fatta diciamo nel senso che arriva nell'under 19 è difficile che poi di capata giocare a 11 o è possibile beh calcolando ma in tutte le categorie che siano 15 17 19 che siano quelle agonistiche e ci sono ci sono tanti ragazzi che chiaro che entrano dal calcio e perché magari o venivano dal calcio a 5 hanno provato nel calcio a 11 e sono tornati noi abbiamo un esempio anche di di un ragazzo che c'è rientrato ieri cresciuto nell'olimpus settore giovanile poi ha voluto fare questa esperienza nel calcio a 11 e quest'anno è voluto è voluto rientrare e tornare tornare a giocare con noi e cioè ognuno si deve sentire libero insomma di di fare di poter scegliere quello che che pensa sia sia la 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 migliore scelta per per il ragazzo per se stesso e è ovvio che più ti fai grande e per quello la domanda è più difficile è più difficile del del settore giovanile quindi arrivata all'ultima categoria via di della società che può essere un under 17 under 19 provinciale poi sono obbligati magari ad andare altrove magari scelgono scelgono di provare nel calcio a 11 oppure continuo nel calcio a 5 ma data da un'altra società no ma immagino che comunque con con la vostra società un ragazzo seriato in under 19 che si vede comunque ma è la nostra squadra in serie a che gioca su sky esatto avere una prima squadra che ti gioca nel campionato nazionale che possa essere serie b serie a 2 serie a e per per i giovani di appartenenza della società insomma quello deve essere solo un incentivo in più uno stimolo maggiore per per cercare di crescere in questo sport e sognare anche e sognare di arrivare di arrivare perché poi ce l'hai ce l'hai in casa diciamo quindi li vedi e li tocchi con mano quelli che possono essere anche i tuoi passi avanti e il contrario invece appunto avere una squadra nazionale in casa tra virgolette è uno stimolo anche tecnico per i ragazzi non so magari i giocatori della prima squadra che si allenano con le giovanile o viceversa cerchi della prima squadra con la giovanile è difficile che si magari mandano magari magari dice no è capitato è capitato anche anche noi quest'estate insomma che c'è stato qualche giocatore prima squadra che si è venuto a fare qualche partita con noi under 19 e ma è comunque anche la nostra società sia per quanto riguarda il preparatore dei mortieri david patrizi o la responsabile della della dell'atletica insomma giulia lisi hanno detto che se loro vedono un ragazzo pronto o un ragazzo che magari può avere può avere una potenzialità per fare parte del gruppo lo fanno lo hanno lo possono portare su e far partecipare al lavoro di gruppo della prima squadra quindi i ragazzi sanno che c'è questa possibilità e quindi si lavora si lavora tutti i giorni sempre intensamente per per cercare di dimostrare di valere certo credo che sia proprio uno stimolo a fare sempre meglio proprio anche avendoli avendo il preparatore portiere il preparatore atletico come detto che possono subito visionarti per per farti fare il salto di qualità che sia uno stimolo molto importante per i ragazzi sono già stati casi di io parlo sempre da ignorante beh per quanto riguarda quest'anno quest'anno la stagione appena iniziata insomma quindi però già si parla di qualche di qualche ragazzo che può può iniziare a partecipare a agli allenamenti della prima squadra e lo scorso anno abbiamo avuto la partecipazione in campionato di serie a 2 fine a fine anno insomma di di un ragazzo della nostra 19 quindi la società è apertissima anzi allora intanto in in chat su twitch ci arrivano i primi saluti mamadu scrive dai e mister spero che ok quindi il riferimento è stato colto invito ovviamente tutti i ragazzi dell'olimpus e non a partecipare in in chat se avete qualche sassolino da togliervi dalla scarpa con mister francesco è qui potete potete esprimerli in assoluto anonimato fate fate come volete tanto poi vi rivedete al campo senti francesco invece proprio dal punto di vista tecnico parliamo di allenatori e come si cresce allenatore di futsal e come si cresce allenatore di un settore giovanile che poi penso che allenare i ragazzi proprio come dicevi tu quelle emozioni quelle soddisfazioni siano un po comuni a tanti sport soprattutto gli sport di squadra quando si parla di di giovani ma invece proprio nell'ambito del futsal come cresce un buon allenatore ma guarda il discorso del giocatore è uguale a quello che 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 è il discorso per di crescita dell'allenatore nel senso io genere ognuno ogni allenatore non non si deve mai sentire arrivato no nel senso la voglia di continuare a crescere anche la mia voglia di continuare a crescere in questo sport non è illimitata nel senso avere avere la grandissima fortuna di assistere agli allenamenti della prima squadra dei mister d'orto e seguire il lavoro che che loro fanno nel quotidiano e quelli sono tutti bagagli tecnici che che un allenatore deve deve cercare di di riuscire a far tesoro insomma di tutte queste queste situazioni e quindi lo stimolo che vale per i giocatori vale vale lo stesso per gli allenatori si dice sempre il giocatore dopo l'allenamento dopo i 90 minuti della partita torna a casa e va a riposare invece l'allenatore non finisce mai e poi mai di studiare di imparare qualcosa io se se un mio giocatore cresce e io cresco insieme a lui c'era corre di pari passo insomma la crescita per quanto riguarda sia l'atleta che che mister come è stato passare dall'essere un giocatore a essere un allenatore spesso la cosa in passaggio non è così facile ma è la prima cosa la prima cosa è la passione che comunque mi lega a questo sport e se non se non avessi avuto tanta passione non sarei non sarei riuscito ad arrivare magari dove dove sono adesso perché comunque arrivare ad allenare un under 19 nazionale non è non è di poca cosa insomma e io ho iniziato ho iniziato da nelle nelle scuole calcio a 5 società di quartieri nell'olimpico con gli albani voglio dire era eravamo un gruppo di amici e ci siamo ritrovati in mano questi questo numero incredibile di bambini vedevi correre questi bambini poi le scuole calcio arriva arriva quello che davvero ha il primo approccio allo sport in generale non solo al calciacinque non è semplice quindi entra entra nel campo lo vedi che si inizia a rotolare cioè il pallone non per lui è l'ultima cosa proprio e quando quando vedi che poi questo bambino che quando entrava si iniziava a rotolare a fare i caprioli a correre a giocare a chi apparella no e lo vedi che inizia davvero a seguirti a i primi tocchi del pallone tutti gli esercizi tecnici sono quelle sono grosse soddisfazioni e poi step li ho fatti tutti dalla scuola calcio all'under 15 all'under 17 ultimi due anni all'under 19 quindi sono sono soddisfazioni grandissime e differenti perché comunque quando poi entri nella competizione perché scuola calcio poi non è non è competitivo no cioè ci sono sempre gli incontri di fine di fine settimana tra tutte le società però non c'è un campionato una classifica un vincitore un perdente no bambino competitivo già già si quello quello indubbiamente poi quando entri a far parte nella quando entri nel nel settore agonistico quindi dall'under 15 in su ci sono ci sono altrettante soddisfazioni sempre a livello di crescita di il di squadra di gruppo di giocatore singolo quindi io davvero davvero se non avessi tutta questa passione penso che non non sarei arrivato a dove sono adesso anche perché ricordiamolo ricordiamolo anche a chi a chi ci sta seguendo e che magari non è così esperto o appassionato di fuzzata ricordiamo che il calcio a cinque è uno sport divettantistico in italia per per come è strutturato gran parte di chi lo gioca ma anche di chi lo allena ha un altro lavoro per mantenersi nella vita certo cioè davvero sono pochi le persone insomma che che campano di calcio a cinque fortunati loro insomma sono sono davvero sono davvero pochi e stiamo parlando comunque di minimo di essere un campione del mondo probabilmente per per viverci viverci proprio però ecco appunto qua la passione la passione la fa ancora da padrone mentre mentre nel calcio spesso parliamo sentiamo discutiamo di quanto magari la passione vada in secondo piano rispetto a interessi economici anche particolari però in sport come il futsal proprio forse per come sono strutturati adesso la passione ancora viva ancora si sente si percepisce e la percepisce benissimo anche chi si approccia per la prima volta a questo a questo sport e quindi mi chiedo da dove nasce questa cioè da dove nasce questa passione cos'è che ti se c'è un particolare un qualcosa di in particolare che ti stimola a entrare tutte le domeniche o tutti gli allenamenti in campo che non ha non hai avuto magari con altri sport con altre ma guarda ti ripeto io sono sono davvero cresciuto in questo sport nel calcio a 5 e la forza la forza di continuare di di voler andare avanti è anche la voglia di di continuare a vedere il ragazzo perché io poi mi occupo solo di settore mi sono sempre occupato del settore giovanile voglio dire quindi non prime squadre e quindi la voglia di insegnare brutto perché comunque non è che insegniamo niente però di far crescere di trasmettere la passione che ho io ai ragazzi che alleno è la cosa principale proprio cioè quello che ti paga sostanzialmente sì 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 perché poi cioè non è per fortuna non non campiamo per fortuna o per sfortuna non cambi non campiamo forse sarebbe meglio anche solo di calciacinque però indubbiamente il calciacinque per me è davvero è davvero tanto tanta tanta cosa tanta tanta roba io volevo fare un attimo un passo indietro perché ho letto di un vostro football camp non so se tu sei stato partecipi di questa della scuola calcio della scuola calcio esattamente mi ha incuriosito molto perché ho letto doppia seduta di allenamento piscina ma soprattutto corso di spagnolo ma sì perché per quale modo cioè in senso è una cosa curiosa calcola cioè il centro sportivo dove siamo noi alloggiata voglio dire è una cosa i ragazzi davvero hanno la possibilità di spaziare dal campo da calcio a 11 dal campo da calcio a 5 palazzetta al coperto e la piscina la palestra insomma il futsal camp che è stato organizzato quest'estate dalla scuola calcio era appunto per per cercare di introdurre i piccoli ragazzi nel in questo sport e e si sono inserite magari varie varie situazioni no come era al vicino il corso di spagnolo e ma perché proprio il corso di spagnolo è perché c'era c'era uno dei mister che comunque madrelingua e quindi noi avevamo pensato nel commento in cui potesse essere un bagaglio importante per un aspirante calciatore di futsal conoscere spagnolo insomma non sarebbe non credo sia fondamentale per diventare campione del calcio a 5 però sempre giustamente giustamente c'era a disposizione il mister perché no è un servizio più che si offre comunque era un servizio che si offre a ragazzi assolutamente no ma infatti non era cioè era una cosa particolare che uno colpisce i ragazzi che fanno si allenano piscina e poi corso di spagnolo dici rimani un attimo rimani un attimo spiazzato per noi invece magari giornalisti probabilmente conoscere spagnolo o portoghese nell'ambito futsal potrebbe essere interessante proprio perché in spagna e in brasile ma poi anche argentina il professionismo vero campioni del mondo c'è il professionismo vero e quindi mi chiedevo lì da quelle parti da nel futsal professionistico appunto come si approccia il settore giovanile se hai avuto modo di confrontarti ma la c'è una struttura dietro differente la davvero i bambini crescono nelle cantere e come come nel calcio 11 se li portano avanti fino alle prime squadre in italia ancora non siamo strutturati per arrivare a certi livelli però si sta lavorando si stanno iniziando ad aprire c'è la sampdoria c'è la juve che ha aperto un reparto reparto futsal però non è proprio anche il verona mi sembra che abbia una prima squadra dei calcio 5 anche anche la partecipazione delle squadre delle società di calcio 11 è fondamentale anche per la visibilità soprattutto quindi però sicuramente da questo punto di vista ci stiamo un po piano piano ci arriveremo ci arriviamo ci arriviamo si sta lavorando per arrivare a ai livelli degli altri di altri paesi più attrezzati di noi ma perché questo sport perché c'è il prodotto c'è ma il prodotto c'è per quello che uno perché uno spinge non è che uno non cerca di pubblicizzare il maggiung in italia a marco di cosa non entra niente in tasca ve lo assicuriamo niente niente è solo uno uno stimolo in più no speriamo sicuramente che crescano nascano sempre più cantere di casa nostra che insomma chiamiamole scuole calcio certo per quello che sono anche perché è una bella definizione scuola e certo scuola calcio scuola calcio a 5 in questo in questo caso e non temiamo non temete che l'ingresso delle grandi delle major del calcio in italiano a 11 possa snaturare un po la l'entità del calcio a 5 questa passione quello che lo anima ma snaturare no è anche questo deve essere un incentivo maggiore anche per tutte le altre società e comunque l'approccio dal calcio a 5 anche di società di calcio a 11 secondo me è molto molto positivo e vuol dire anche anche per dirti l'ele 84 no è una società il cui residente marchisio ex giocatore da juve quindi si sta crescendo e lì l'avvicinamento anche di società di calcio a 11 al calcio a 5 secondo me non può essere che positivo ma sai perché secondo me non ci deve essere questa paura perché comunque essendo due due reparti chiamiamolo così separati completamente il calcio a 5 anche che una lazio una roma un milan acquisisca appunto una società di calcio a 5 credo che comunque l'organico societario rimanga bene o male quello perché tu hai bisogno di persone specializzate in quel settore tu non puoi pensare di milan si compra una squadra di calcio a 5 di milano e ci mette in mezzo ex giocatori di calcio a 11 fanno un casino detto alla romana ma è vero che sono sport differenti e quindi bisogna mantenere quell'organizzazione perché effettivamente funziona però dandogli una visibilità dandogli una visibilità maggiore quindi io non credo a questa a questa non ho questa paura diciamo come io io mi fido di voi ovviamente faccio sempre un po l'avvocato del diavolo a insinuare il dubbio e altre domande ma sì più specifiche magari su su inizio di stagione sì per come hai preparato i ragazzi quest'estate e come li stai preparando invece in questa ultima settimana immagino che c'è stata di avvicinamento alla partita guarda i ragazzi io con i ragazzi questo è già il secondo anno che lavoriamo insieme perché comunque lo scorso anno ci siamo trovati ad avere un gruppo unico 17 e 19 quindi l'altro anno abbiamo giocato abbiamo partecipato al campionato con tanti tanti ragazzi sotto età e quindi quest'anno si ritrovano si ritrovano di categoria e quindi abbiamo però già un anno di lavoro sulle spalle si e lavoriamo lavoriamo settimanalmente sempre sempre cercando di diventare di diventare ancora più gruppo ancora più squadra perché poi senza se non abbiamo gruppo se non abbiamo un gruppo un gruppo squadra saldo unito non si va non si va da nessuna parte però sono davvero soddisfatto di ogni singolo ragazzo che fa parte della della rosa sia 17 che 19 davvero davvero molto soddisfatto anche la 15 abbiamo un po' di difficoltà a livello numerico per partecipare per cercare di completare una rosa a dovere insomma è bisogno di un numero adeguato di ragazzi per quanto riguarda noi a 19 non mi posso lamentare per quelli un po' più piccoli da 7 e 15 siamo un po' carenti però si sta lavorando per cercare di di far avvicinare il discorso che stavamo facendo prima ti aspetti un po' il salto di qualità da questi ragazzi che hai inserito io me lo auguro io me lo auguro ma io li vedo e ci sono i presupposti sì sì ci sono tutti i presupposti è ovvio domenica domenica partiamo il campionato prima giornata di campionato Eur Massimo se non sbaglio ho visto sì sì con l'Eur Massimo e non si conoscono tutte le squadre con cui andremo andremo a giocare però la voglia di cercare di far bene è fondamentale poi quello che riusciamo a fare lo vediamo settimanalmente ma il lavoro che svolgiamo tutte le settimane tutti insieme sul campo non posso davvero lamentarmi di niente con i ragazzi mi ha già risposto alla seconda domanda che ti avrei fatto perché ho visto il presidente molto quadrato anche nella sua testa a quello che vuole per esempio all'intervista tra primo e secondo tempo a Sky gli hanno fatto quali sono gli obiettivi lui ha detto se non sbaglio arrivare nelle prime quattro e fare le finali di coppa quindi comunque ce l'ha l'obiettivo l'ha dato anche a voi un obiettivo sì o comunque un obiettivo di massima diciamo l'obiettivo davvero nostro è quello di crescere di continuare a crescere tutti insieme e senza limiti perché poi non è che ti poni un limite ma nemmeno ti poni un obiettivo l'obiettivo principale è quello di cercare di fare sempre meglio della passata stagione poi vediamo quello che riusciamo a fare va bene va bene un obiettivo modesto giustamente no no ma ti ripeto ho visto il presidente molto molto deciso quindi ah sì? sì sì ti ho detto vogliamo fare le finale di coppa comunque per una neopromossa diciamo che non è proprio per quanto non sia una vera neopromossa come diciamo nelle scorse puntate comunque è un bel come posso dire è una bella pressione anche diciamo è anche un bello obiettivo assolutamente assolutamente per il tipo di rosa che hanno allestito mi sembra ovvio però puntare puntare al massimo è non dico d'obbligo però comunque ci si deve pensare è auspicabile ecco certo e le squadre di cui hai più paura che temi di più per quanto riguarda noi nel girono beh ci sono l'History 3Z c'è la Lazio e l'Eur Massimo stesso che comunque a livello giovanile sono davvero ben attrezzate c'è la Ternana gli Hornets ci sono davvero squadre di livello e te lo ripeto poi essendoci una rotazione continua di ragazzi e perché comunque la partecipazione al campionato di categoria comprende un biegno e quindi c'è una rotazione continua di ragazzi e se non c'è una preparazione adeguata alle spalle nelle categorie più basse che sia 15 o 17 poi è complicato poi c'è la fatica esatto esatto senti invece una curiosità che avevo io proprio più personale tu sei di Roma noi anche questa è una cosa che dobbiamo mettere chiara sono tante le squadre romane di Futsal sia in serie A in serie maggiore che poi a cascata nelle categorie inferiori e questo da romano innanzitutto da romano secondo te perché? cioè cosa ha portato tutte queste squadre a arrivare poi a livelli così alti nel Futsal perché in serie A abbiamo l'Olympus l'Olympus l'Ostia l'Olympus di Ostia e Ciampino Aniene annoveriamo a Ciampino Aniene annoveriamo nelle squadre romane giustamente in serie A però giustamente anche questo a noi in certo senso riempie d'orgoglio tu invece come la vedi avendo vissuto poi tutto un Futsal negli anni passati in categorie diverse in situazioni in società diverse anche beh comunque c'è il calcio a 5 romano ha una certa tradizione e parliamo davvero di di tanti tanti anni fa come la Roma RCB e il Torrino stesso Dicevamo prima con Torrubei esatto e lo sviluppo di di tante società c'è stato perché comunque magari si sentiva anche l'esigenza di 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 fare entrare i ragazzi in questo sport no i primi approcci ad avere i primi approcci per i più piccoli anche a questo sport non so non so se può essere un bene o un male perché poi alla fine avendoci così tante società che cercano di allestire un qualcosa di credibile nel calcio a 5 sia produttivo o meno per la crescita del bambino dell'atleta è normale che se il primo approccio ce l'ha in società ben attrezzate che hanno già una storia alle spalle è sicuramente migliore per il ragazzo stesso però magari a differenza del calcio a 11 in cui i ragazzi che crescono magari nelle scuole calcio romane hanno due obiettivi primari insomma principali Roma o Lazio magari qua si aprono c'è una scelta più ampia perché poi anche nel nazionale nelle categorie di serie A2 o serie B ce ne sono tantissime di società laziali di Roma stesse c'è proprio un girone praticamente anche per quanto riguarda la 19 ci sono due gironi per il Lazio nel nostro ci sono due squadre di Terni la Ternane è un'altra società sempre di Terni e tutto il resto è tutto laziale il secondo girone laziale penso che il Lazio sia una delle maggiori regioni ad avere più società posso dire una banalità? Prego semplicemente perché siamo tantissimi tra Roma tra Roma e Limitro che siamo una quantità di persone veramente siamo tanti siamo tanti e di conseguenza tanti vogliono fare sport come con il padel perché c'è anche questo esatto anche lì anche il padel siamo primi campo piccolo cioè si può fare un campo praticamente dappertutto con poco anche e quindi il padel in cinque anni è esploso paradossalmente il padel ha rubato tanti campi a caccia cinque vabbè ma perché per forza di cose fino allo scorso anno potevi solo giocare a padel esatto quindi le società si attrezzavano giochi a padel? sì ma ormai ormai è lo sport nazionale esatto è una domanda è una domanda facile è una domanda facile è una domanda facile è una domanda facile prima del calcio a cinque esatto tra poco esatto prima del calcio a cinque e quanto manca il calcio a cinque per arrivare alle olimpiadi secondo te? beh se ne inizia a parlare già che se ne inizia a parlare è un qualcosa di buono spero spero che ci si arrivi perché perché poi a livello a livello globale proprio cioè ce ne sono di di squadre di calcio a cinque già che si arrivi a competere in in Champions League no? già che si iniziano a creare situazioni del genere voglio dire abbiamo visto anche il mondiale che si è appena concluso insomma con squadre di tutte di persone che meno ma che comunque garantiscono anche un dialogolistico di tutto rispetto quindi beh speriamo che speriamo di arrivarci prima del paddle insomma senza nulla togliere senza nulla togliere dal paddle assolutamente anzi però anche solo per questioni anagrafiche esatto siamo arrivati siamo arrivati prima a noi no siamo arrivati prima a noi esatto questioni di anzianità mettetevi in fila beh allora avevamo le immagini ecco intanto dalla regia giustamente ci aiutano perché mentre parliamo è in corso il la seconda la seconda giornata del campionato di serie A le ultime due partite sta per iniziare Napoli contro Ciampino Andinuovi Ciampino Andinuovi che è una società di cui abbiamo nominato prima però a questo punto abbiamo il mister qua gli chiediamo queste partite come come le abbiamo già ne abbiamo già parlato all'inizio in realtà di campionato però stavamo vedendo la partita dell'Olympus di ieri ieri ha giocato con l'L84 esatto con due gol condensati ma neanche un minuto no quella è la prima giornata però quella è la prima giornata sulla sirena mi devi fermare su ste cose io poi mi parte la tangente però volevo sapere da Francesco proprio cosa si prova in campo a subire un gol del genere sulla sirena c'è stata l'intervista del mister prima dell'inizio della partita di ieri sera che è emblematica ha detto il giornalista gli ha chiesto insomma quello che aveva detto ai ragazzi per cercare di uscire fuori a quella situazione di di prendere i gol sulla sirena il gol della sconfitta insomma il 5 a 4 e lui ha detto ok dobbiamo bisogna resettare resettare tutto e cercare di di far meglio di non commettere gli stessi errori commessi nella partita precedente infatti ieri è stata una prestazione davvero e secondo me comunque il fatto di giocare la partita dopo nel palazzetto di Sky comunque la sua la sua la sua carica già ce l'aveva comunque andare in diretta su Sky ma poi tutto il contesto le interviste che ci sono state il giorno prima e andate andate su Sky G24 pure voglio dire su selezionale di Sky Sport eccolo questo è il gol che lui ha provato lui veramente ha provato a tirare in porta si si poi lo lo suazzo che la strano giocava con lui si 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 proprio sulla sirena colpisce di testa la palla entra in rete finita e là c'è poco da fare però per quanto posso dire questo quanto meno è il bello del futsal ci sta anche perdere così penso a vincerle una partita in questa maniera ti dia una gioia indescrivibile ma a perderle però per lezione non è facile eh no va bene direi che questa mi sembra una chiusa più che più che sufficiente eh l'unica l'ultima cosa proprio una battuta cioè a me quando penso al futsal penso a due elementi soprattutto eh spazio e e tempo due cose che nel futsal sono molto molto strette limitate e quanto questi elementi però lo rendono secondo te uno sport a livello a livello nazionale poi parliamo il tempo parliamo di tempo effettivo di gara quindi comunque poi alla fine partite di due tempi da venti minuti di tempo effettivo durano un'ora e mezza poi dipende anche dalle partite eppure più di un'ora e mezza e quindi però c'è sono sono davvero davvero delle 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 situazioni che se non se non le vivi eh campo campo è quello che è insomma limitato quindi devi uscire fuori la qualità tecnica del giocatore perché sennò non non riesci ad andare da nessuna parte però magari sono anche quegli elementi che poi regalano proprio queste caratterizioni questo sport cioè queste sono le caratteristiche pure di questo sport no lo spazio ristretto del campo di gioco possibilità di errore varia a zero ma c'è anche una velocità del gioco che no nel calcio a 11 ci sono più pause ci sono più ma è certo nel calcio a 5 non ti può permettere la vicinanza anche all'avversario cioè anche questo sì sì assolutamente tutti i giochi di uno contro uno ripartenze continue superiore da numeriche puoi mai farti saltare teoricamente però poi alla fine se non ti fai mai saltare finiscono finiscono tutte zero a zero però sì sono tutti uno contro uno veramente nel breve ti devi far saltare ma devi saltare e devi saltare esatto è tutto tutto lì il gioco è là il gioco è là va bene allora nel frattempo palla al centro come si dice con Napoli Napoli Ciampino c'è un Vilde in in grande spolvero in grande spolvero noi nel frattempo ovviamente ringraziamo Francesco Semerano grazie a voi mister dell'under 19 dell'Olympus futsal potrete seguire le le partite della squadra maggiore su Sky ad esempio o nel corso del campionato noi seguiremo le giovanili anche le giovanili li possono seguire magari dirette facebook no devo dire anche su questo stiamo stiamo crescendo stiamo crescendo e noi continueremo a tenervi d'occhio e a continuare a parlarne perché ogni volta io io mi emoziono e sto a 2000 adesso non vedo l'ora che inizi la partita e quindi parlare di futsal su futsal arena è sempre è sempre un piacere Francesco noi ti ti ringraziamo grazie grazie a voi davvero continuiamo un'altra un'altra mezz'oretta abbiamo un paio di cose da far vedere ai ai nostri ragazzi noi torna per noi puoi tornare quando vuoi ovviamente quando volete voi a disposizione in bocca al lupo in bocca al lupo grazie grazie io e lupo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti eccoci siamo tornati siamo tornati tutto un cambio siamo cambiati rivestiti ah è vero c'è il fatto che cambia la truccatrice e tutto niente ah capito quello manco sanremo manco sanremo no vabbè ammazza sanremo se non truccano a sanremo se non si cambiano ogni ogni canzone giustamente ma sanremo è sanremo questa è fuzza all'arena siamo modestamente fuzza all'arena è tutta un'altra tutta un'altra questione però non vogliamo far concorrenza a sanremo assolutamente ciò non di meno però abbiamo cambiato la disposizione la scenografia ringraziamo sta arrivando Orietta Berti a proposito di sanremo con questi ospiti ti piacerebbe Orietta Berti nemmeno troppo nemmeno troppo nel frattempo nel frattempo comunque ringraziamo sempre doverosamente Niccolò Masini Mattia Mingione che là dietro sono a dirigere regia e attrezzature varie ci permettono di fare queste queste magie come le magie che stiamo stiamo seguendo sul campo di futsal tra Napoli e Ciampino Aniene e Ciampino Aniene esatto niente io ormai ho capito poi arriviamo alle 8 di sera si incrociano le sinapsi però questa è l'ultima la penultima partita della seconda questa è la penultima partita della seconda giornata perché alle 8 e mezza c'è Matera Pesaro che chiuderà la seconda giornata e poi questo weekend inizia subito la terza quindi come dicevamo prima stanno giocando come nel calcio a 11 come nel calcio a 11 di inizio stagione uno dietro l'altro partiamo da dove c'eravamo lasciati partiamo da dove c'eravamo lasciati perché c'eravamo lasciati con Pesaro Napoli invece che dovevano giocare alla Skyfuss all'arena esattamente di Salzo Maggiore Terme e guarda io l'ho io l'ho vista la partita e il Napoli sicuramente meritava qualcosina qualcosina in più rispetto a quello che è il 3 a 0 finale della partita perché comunque magari un 3 a 0 può far pensare a una partita abbastanza a senso unico diciamo con anche magari controllata invece comunque il Napoli si è dato si è dato da fare ha cacciato molto in porta quindi è stato molto pericoloso il Napoli però magari ha pagato anche un po' lo scotto uno di essere una neopromossa e due comunque di fare l'esordio in Serie A1 e quindi già hai sicuramente un po' di tensione in più lo fai subito in diretta nazionale quindi credo che un po' di un po' di inesperienza ci sia stato in più aveva qualche qualche defezione per esempio anche a Fortino che è il loro il loro pivot che è possiamo dirlo probabilmente il giocatore più forte che ha il Napoli a disposizione o quanto è sicuramente quello con più esperienza quindi in questi casi come ti dicevo prima in un esordio in diretta sicuramente avrebbe fatto comodo avere un giocatore come Fortino e quindi è un 3-0 un 3-0 abbastanza combattuto però un 3-0 che ci sta perché comunque il paese sarà giocato meglio e hanno avuto risposte anche dai nazionali intanto il Napoli va in vantaggio con un balletto anche va in vantaggio contro il Ciampino e ti ripeto hanno avuto le risposte dai nazionali perché va in gol Borruto che era appunto uno dei nazionali argentini che ci si chiedeva un po' come arriveranno questi argentini dopo il mondiale ha appena perso e tra l'altro Borruto è proprio il giocatore che si è fatto espellere nella finale per un fallo di reazione comunque non una bellissima figura diciamo così e quindi ha subito risposto sul campo e credo che di questo Mr. Colini sia molto soddisfatto Mr. Colini tra l'altro che faceva mille panchine in in serie A mille panchine in serie A e lui ci ha tenuto a ripetere che in verità sono mille e due perché ha detto guarda che le categorie minori contano lo stesso anzi mi hanno insegnato di più le categorie minori che le mille panchine che ho fatto in serie A quindi comunque mille panchine veramente non so chi potrà mai riuscire a fare nel futsal soprattutto ma in qualsiasi sport sinceramente mille panchine sono un qualcosa di eccezionale di grandissimo poi con tutto quello che ha vinto lui è veramente incredibile Pesaro raggiunge la tredicesima vittoria consecutiva contando anche quelle dell'anno scorso quindi una striscia che comunque una striscia positiva una striscia lunga di Pesaro che continua esattamente poi ne abbiamo già parlato l'abbiamo fatto vedere anche anche prima ovviamente Sandra Bate Olympus quel finale thriller non potevamo non ricordarlo perché quello è proprio come dicevamo prima l'emblema del futsal perché una squadra che pareggia ha nemmeno un minuto dalla fine per come siamo abituati noi nel calcio la partita è finita il pareggio è finita così vedi una una rimessa a cinque secondi dalla fine noi siamo abituati ti alzi dal divano e ti vai a prendere qualcosa si fa melina si fa melina lì a bordo campo sicuramente non si pensa che quella partita sia ancora viva e invece questa partita ci ha ricordato ancora di più quanto il futsal viva proprio di secondi intanto recupero palla incredibile ma nulla nulla di fatto il portiere ci mette il piedone esatto appunto il futsal vive proprio di secondi non di minuti ma proprio di secondi e quindi tra l'altro ci ricordava ci ricordava Francesco prima l'assist per il gol del Sandra Bate lo fa un ex giocatore dell'Olympus dell'anno scorso quindi subito a dare un dispiacere enorme è il classico non gol dell'ex però sicuramente la classica prestazione incredibile dell'ex ci sta non si non si smentisce mai e pesaro che dice che ricordiamolo è campionoscente dello scorso campionato mentre il Napoli che adesso stiamo seguendo contro il Ciampino una delle neopromosse in serie A proprio insieme al al Ciampino Aniene e all'Olympus esattamente e alla stessa Olympus quindi insomma prestazioni delle neopromosse anche il Ciampino il Ciampiniere adesso ci saremo arrivati il Ciampino ha dato un'ottima un'ottima impressione a parte adesso che sta è sotto 1-0 ma questo non vuol dire perché noi che l'abbiamo seguita anche lì proprio dal palazzetto la partita inizia il Ciampino Catania diciamolo perché se no chi ci segue non sa bene che coordinate siamo Ciampino Catania inizia con un gol un gol del Catania e se tu tra l'altro un gran bel gol un euro gol del Catania non un gol del Catania e se tu mi veniva a chiedere dopo quel gol ma passati 5 minuti di partita come sarebbe andare a fine quella partita io non non avevo grossi dubbi che il Catania sarebbe riuscito a a passare sul campo del Ciampino invece alla lunga sono venuti fuori le qualità del appunto del Ciampino è uscito fuori i Vilde che prima si è come si dice da noi si è mangiato un gol però poi si è rifatto con gli interessi quindi sono uscite fuori le qualità anche Raubo che vediamo adesso ha fatto un'ottima prestazione Gabriel Pina e quindi questo 8 a 3 con il Catania comunque il Catania è una società che è lì da diversi anni ha come ti dicevo la scorsa volta Musumeci che è un giocatore nel giro della nazionale che tra l'altro ti ho detto un po' lo sliding door della lo sliding door di quella di quella giornata di quella partita scusami è stato proprio Musumeci che davanti al portiere vente a porta vuota prende palo 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 se ne mangia uno malissimo esatto nel frattempo però ti interrompo perché abbiamo una subscribe sul nostro canale Twitch Lilith grazie grazie di cuore questi sei mesi ti giuro non ti abbandoneremo saremo qua per sei mesi a parlare adesso dopo questa subscribe chiudiamo tutto affittiamo a qualcun altro tutta la redazione no no assolutamente no anzi è stimolo in più per continuare per andare avanti vediamo adesso un battibecco tra l'allenatore del Ciampino i bagnez spagnolo e il con anche Vilde se vedi in mezzo esatto l'ufficiale di gara l'arbitro che chissà che cosa si stiano stiano dicendo c'è stato un gesto plateale che in Spagna vuol dire grazie ti voglio bene da noi vaffanculo però no è questo che vuol dire però io avrei detto a quel paese ma a quel paese si può dire molto più si può dire su Twitch si può dire su Twitch si 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 ancora non siamo su Rai 1 a proposito di Sanremo a proposito di Sanremo non ce lo fanno fare Sanremo no sicuramente non presenterai Sanremo mettiti in plan io e faccio l'anno prossimo non presenterai Sanremo peccato per fortuna che c'è Carlo Conti però diceva torniamo al torniamo al futsal ci dicevi del di Ciampino Catania invece guarda invece ti aggiungo una cosina sul Pesaro che appunto deve giocare tra poco alle otte e mezza inizia la partita il mister Colino non è stato molto soddisfatto nonostante il 3 a 0 come ti dicevo prima ha detto aspetto di vedere i ragazzi negli allenamenti veri negli allenamenti con tutta la rosa a disposizione perché come dicevamo ha avuto molti giocatori fuori per il mondiale ma ha detto siamo indietro per il campionato e per gli impegni che abbiamo quest'anno cioè anche la Champions League siamo indietro perché ha detto concediamo troppe occasioni come ti dicevo il Napoli comunque non ha demeritato in quella partita sicuramente il Pesaro ha fatto meglio indubbiamente ma il Napoli non ha demeritato e te lo confermo anche Colini che dice concediamo troppo ti conferma ti conferma questa cosa però è stato abbastanza fiducioso per quanto riguarda il girone di questo è un messaggio che arriva di Faisal ah beh giustamente giustamente ma io mi attrezzo mi attrezzo per quello la speranza c'è sempre di fare Sanremo poi e ti dicevo appunto perché nel girone di Champions passano le prime tre e non solo le prime due ha detto che comunque ci sono due squadre che fanno un po' un girone a parte diciamo non si sente all'altezza di questi due squadre di cui una è quella è quella kazaka però crede di giocarsela con il Pölsen sicuramente anche se ne ha parlato molto molto bene perché ha detto che intanto il pareggio arriva il pareggio del c'è il pareggio di Vilde e qua torniamo a quello che dicevamo no magari nel Futsal un 1-0 poi conta non conta assolutamente nulla conta conta poco gol di rapina come si sarebbe detto che però è comunque da sottolineare perché ricordiamoci sempre che che Vilde è un giocatore di 38 40 addirittura forse anni però sicuramente sicuramente avanti 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 intorno alla quarantina però lì si fa trovare si è fatto trovare diciamo che la classe non si perde penso che se tu metti Pippo Inzaghi davanti nel Milan mi capi in occasione del genere certo poi quelle erano proprio le sue esattamente il gol di rapina il gol di rapina su un dizionario c'è la foto c'è la foto di Inzaghi esattamente esattamente però dicevamo del Pesaro che campionato Coppa e Champions League un anno davanti una stagione davanti molto impegnativa ovviamente anche perché non hanno l'obiettivo del Pesaro non è diciamo semplice perché loro sono arrivati molte volte a ridosso delle semifinali però poi per una cosa o per un'altra non sono mai riuscito a raggiungere quest'anno con appunto questi giocatori Borruto Canal Onorio comunque tutti i giocatori di livello veramente altissimo che quando si è seguito la partita su Sky anche i telecronisti diciamo erano un po' in difficoltà perché ok il Napoli è una nuova promossa con con tanta qualità però diciamo che i cambi che faceva il Pesaro erano cambi e esce un vice campione del mondo entra un altro vice campione del mondo questa dà un po' l'idea di che di che squadra è appunto lì dal service Pesaro e appunto dicevo quest'anno l'obiettivo sicuramente sarà arrivarci a queste benedette o maledette semifinali quindi sarà sicuramente una stagione abbastanza impegnativa ti dico che però il Catania nella seconda giornata si è rifatto con gli interessi facendo facendo sette gol appunto alla malcapitata Real San Giuseppe quindi il mister noi abbiamo sentito il mister a fine partita proprio del Catania ci ha detto sono molto contento ovviamente non della partita che abbiamo preso 8 gol però sono molto contento che possiamo giocare subito martedì perché almeno abbiamo poco tempo per stare lì a rimuginare su questa partita ma possiamo subito rifarci sul campo e infatti da un 8 a 3 persa nasce un 7 a 1 portato a casa quindi diciamo che quindi anche questa cosa delle tante partite in concomitanza anzi no tante partite ravvicinate dipende sempre un po' dai punti di vista perché c'è per chi magari come il Pesaro che ha tanti incontri tanti impegni e tanti giocatori provenienti dalle nazionali può essere effettivamente uno svantaggio ma semplicemente in termini di preparazione atletica tanti non hanno avuto modo tempo sufficiente per fare l'adeguata preparazione atletica altre squadre invece possono gioarne assolutamente assolutamente anche perché ormai abbiamo questa definizione ormai da un paio di anni che ci danno tutti gli allenatori ovviamente faccio una riferente al calcio 11 perché il calcio 5 trasmesso è iniziato quest'anno che effettivamente le squadre si allenano giocando si allenano giocando mi viene da dire la domenica anche se non è non è più la domenica però ovviamente un allenatore con tanta esperienza sulle spalle come Colini che ha una squadra di questo calibro che deve andare a che ha degli appuntamenti così importanti come la Champions League ha bisogno invece di fare allenamento vero proprio per spiegare un po' ai suoi giocatori cosa vuole i suoi movimenti e tutto quanto che ok si imparano anche giocando però il paese non si può permettere passi falsi e di imparare giocando e quindi ha bisogno di di allenarsi con con tutta la rosa a disposizione come dicevo lo ha detto proprio in un'intervista ha detto faccio faccio molto affidamento e spero molto che le cose migliorino da quando quando avrò la possibilità di allenare tutta la squadra per intero anche perché la preparazione atletica serve a mettere nelle gambe quelle 40 50 partite che poi magari nella stagione dovrai affrontare perché solo di campionato parliamo di 32 giornate sono 16 sì quindi sono 31 31 sì perché ciampino ciampino non si fa non si fa e più Coppa Italia più Champions League per iniziano e poi come dicevamo non facciamoci ingannare al campo ristretto a calcio 5 si corre si corre tanto e quindi non è non c'è Gigi il pizzaiolo in campo diciamo che stacca da lavoro e gioca a calcio anche perché di là magari sì il campo è più lungo ma sono comunque in 11 quindi è tutto abbastanza proporzionato a calcio a 5 praticamente tolto il portiere con le dovute eccezioni perché poi anche il portiere le sue falcate le fa a calcio a 5 tutti coprono più o meno tutti i ruoli quindi si corre si corre di continuo il che ne fa anche uno sport spettacolare perché movimenti continui cambi di fronte come ci diceva anche mister Semeraro nel frattempo noi stiamo 2 a 1 noi stiamo vedendo il gol il secondo gol del Napoli se non vado si che arriva proprio inaspettato perché sembrava il il Ciampino avesse preso un po' in mano le redini della partita poi anche un po' di sfortuna ci si mette perché salta un uomo il portiere la sfiora praticamente e c'è lì ovviamente il pivot era in quel caso che sta sempre sul palo quindi il pivot è la punta il pivot è la punta poi ovviamente ci sono dei movimenti che codificati mi viene da dire nel calcio a 5 che un pivot sa che se il suo il suo compagno sale sulla destra magari si va si va a mettere secondo palo quelli sono sono movimenti che le esperienze ma poi magari non sono nemmeno movimenti codificati è semplicemente il naso di chi ha fatto x partite e x gol ad alti livelli che sa che deve mettersi lì e quello non te lo non te lo potrà mai insegnare nessuno come diciamo prima a Pippo Enzaki nessuno ha insegnato a fare gol ci è nato quindi quindi quelle sono cose che hai che hai tu che hai tu dentro adesso vediamo il ciampino come come riuscirà a rialzare a rialzare la testa vediamo vediamo nel frattempo però oltre questa abbiamo detto l'ultima della della seconda di campionato per questo weekend invece abbiamo delle partite da guarda se ti posso dire sono sono molto ignorante in questa in questa puntata e quindi se vuoi ce l'andiamo attenzione Nicola si è presentato mi sono presentato impreparato però andremo andiamo a vedere a vedere subito se ci avessi qui il mio tablet sarebbe sarebbe oro sarebbe oro però abbiamo i telefoni facciamo ricorso a questi ho fatto molto molto affidamento sulla giornata su raccontare le giornate scorse effettivamente ho fatto un po' una caponata si può dire ho fatto una caponata succede succede ce lo possiamo permettere tutti allora seconda giornata è quella odierna terza giornata 3 a 1 del napoli 16 ottobre nel frattempo il napoli inizia a prendere il volo in casa poi comunque non credo sia facile adesso noi non stiamo sentendo l'audio della partita ma non credo sia facile giocare a napoli non credo sia facile facilissimo giocare a napoli comunque allora appunto parlando di napoli andrà a a matera ad affrontare l'opificio 4.0 mentre il ciampino niene se la vedrà contro il vitulano di manfredonia e credo credo nella fuzza all'arena non vorrei dovrebbe essere nella fuzza nella sky fuzza all'arena dovrebbe essere proprio quello cormar polistena contro il todis lido di ostia altra squadra che abbiamo il polistena anche lei è neopromossa l'anno scorso ho avuto la possibilità di vedere appunto la finale playoff del polistena con l'active network di cui parlava prima il mister ti dico che è assolutamente una squadra che vale la categoria è un'ottima squadra bene quindi staremo a vedere e ne riparleremo se non sbaglio adesso ho provato a vedere ha avuto anche un un ottimo risultato nelle prime due giornate ha vinto una partita che non era non era affatto scontata che ovviamente se uno non si prepara poi le cose non se le ritrova ovviamente come deve essere ma succede così però guarda si 3 a 1 con la Camedosson che comunque è una squadra infatti si mi ricordavo andavo a memoria che è una squadra abituata a questi a questi palcoscenici ti ripeto c'ha davanti a Gia Paviera che è comunque il la puntata nazionale italiana quindi tanta roba andare lì e vincere e vincere per una neopromossa non è sicuramente non è non è da tutti i giorni e questo ti va a confermare che il Poliziana sia un'ottima squadra nel frattempo comunque il Ciampino non ci sta e nonostante continui continuino le incursioni del Napoli per adesso il portiere del Ciampino continua a respingerle al mittente almeno quelle di adesso e poi tra l'altro ero anche curioso perché è uscito un po' zoppicante nella scorsa giornata dall'ultima ma infatti non credo che sia il perché senza occhiali sono il portiere titolare non credo perché se me lo ricordo bene infatti ti ripeto ero curioso anch'io perché aveva un'altra faccia era uscito appunto zoppicante poi abbiamo l'Olympus del mister che va a Pescara che va a Pescara altra squadra abituata insomma a certi a certi palcoscenici e comunque non è una partita facile assolutamente e poi abbiamo il Catania che appunto come dicevo abbiamo seguito che se la vede proprio con il Pesaro quindi anche qui per il Catania una un ottimo banco di prova dopo una sconfitta una sconfitta una vittoria entrambe rotonde da una parte e dall'altra test con i campioni d'Italia quindi devo dire partita che potrebbe segnare un po' un ottimo un ottimo banco di prova un ottimo banco di prova sicuramente poi il Sandro Abate che è una di quelle a punteggio pieno come l'Eboli sfida dell'L84 di cui ci parlava appunto anche prima Francesco che è la squadra che ha affrontato l'Olympus nella Sky Arena l'ultima giornata e andiamoci a vedere il fan di Eboli appunto che se la vede con il Symbios Petrarca quindi comunque ha sicuramente la possibilità di 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 Symbios Petrarca dall'altro entrambe a 6 punti quindi qui vedremo una delle due forse perché poi ovviamente esiste anche il pareggio nel Fussal potrebbe continuare la marcia a punteggio pieno perché ti ripeto appunto sono entrambe a punteggio pieno a 6 punti quindi sarà sicuramente un'ottima un'ottima partita nel frattempo c'è un'azione e niente ci eravamo fermati un secondo perché c'era un'azione concitata in Napoli Ciampino che comunque continueremo a seguire anche a telecamera spente e Marco che dire vogliamo segnarci delle partite che seguiremo e di cui parleremo la prossima settimana ah questo era il terzo gol del Napoli non l'avevo visto da casa no no non credo non si è regolato ah no no non era quello allora ma guarda io te l'ho già detto quelle che io seguirò con più attenzione il Catania appunto perché il Catania appunto perché sono curioso di vedere dopo queste due partite un po' rocambolesche cosa saprà dare contro il Pesaro seguiremo sicuramente il nostro Ciampino il Ciampino con con il Pescara e poi ti dicevo prima Sandabate Petrarca che appunto sfida tra due squadre a punteggio pieno quindi si presuppone una sfida una sfida particolarmente interessante vediamo come vediamo come andrà noi ci prepareremo anche meglio la prossima volta con la giornata successiva con la giornata successiva tutti i risultati della giornata invece corrente da parte mia non non mi resta che ringraziare ancora una volta anche se da da lontano Francesco Semeraro mister dell'under 19 dell'Olympus che è stato con noi e ci ha parlato del del futsal giovanile quindi delle cantere che sono preposte insomma ad alimentare i nuovi campioni i nuovi eroi del futsal ringrazio chi è dall'altra parte degli schermi delle telecamere Mattia Mingione alla regia e Nicolo Ammasini il nostro produttore nonché Andrea Vischio che sicuramente era lì in chat a moderarvi ma non ho avuto piacere e modo di di vederlo e ringrazio ovviamente Marco grazie per essere per essere stato qua per essere qua anche la prossima settimana oddio io non ti ho detto niente che mi hai detto che sto qua la prossima settimana eh no io famo che ci stai perché se no se me lasci da solo qua va la luce e vino in cinque minuti e ringrazio ovviamente tutti tutti i ragazzi che ci hanno seguito vi invito ancora una volta a lasciare il follow sul canale Twitch di Atleta TV seguite l'esempio di Lilith lasciate anche una una sub al nostro canale per permetterci di andare avanti su tutti i nostri progetti non dimenticate anche i nostri canali social quindi Instagram e Facebook Atleta News punto sport e soprattutto non perdetevi eh l'articolo e l'intervista che Marco scriverà pubblicherà sul sul nostro giornale e per quanto riguarda il Futsal del mercoledì Futsal Arena è tutto non resta che darvi appuntamento a mercoledì prossimo ore 19 19 come ogni mercoledì tanto ormai se lo si è imparato pure loro esatto e grazie a tutti Mattia puoi chiudere tutto grazie per averci seguito se ti è piaciuto quello che hai visto lascia un mi piace al video iscriviti al canale seguici anche su Twitch Instagram e Facebook i link li trovi in descrizione ciao a presto grazie a tutti grazie a tutti